manutenzione straordinaria alla bovia video audio mix riprese foto di giusti walter sostituzione dei cavi in acciaio dopo 20 anni per la manutenzione straordinaria signore e signori buona visione domenica 27 ottobre procedono i lavori per la messa in opera il nuovo cavo in acciaio solo via oggi i lavori sono fermi sono venuta a dare un'occhiata i cavi stanno stendendosi piano piano si pensa che entro il 5 di settembre di novembre tutto sia finito qui si sta lavorando all'attamente le belle giornate aiutano il compito i validi operai con queste immagini dell'oro nell'ottobre del 2019 con i cavi che si stanno sfondendo piano piano e scrivete di solita approcci all'ottobre del insieme mi ho lasciato e la bella dama che insieme mi ho lasciato la dama è già morta è morta e soffertata laggiù, laggiù nella cappella della Santa Annunziata laggiù, laggiù, laggiù nella cappella della Santa Annunziata io prendo i miei cavalli e me ne vo' alla fossa parla 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 occhi d'amore consolami una volta parla parla occhi d'amore consolami una volta non posso consolami perchè sono sotto terra laggiù, laggiù, laggiù laggiù, laggiù, laggiù laggiù, laggiù, laggiù raggiù, laggiù, laggiù laggiù, laggiù, laggiù laggiù, laggiùオ raggiù, laggiù, laggiù, laggiù gbe îngh попытville Grazie a tutti.